io me ne vado tu me via all'avvocato che procedesse legalmente io non nego niente e ti lascio libero lo credo ti pigliavo una somma di denaro senza fare tutte queste complicazioni domani mi mando a pigliare la roba mia una pazza ecco questo sei una pazza hai voluto costare la pace di quei tre poveri giovani io non capisco con quale criterio per quale ragione perché gliel'hai detto perché uno e chi il tre è figlia a te che lo mecchi ti credo uno e chi il tre è figlia a te stotto zitto ti potevo dicere che tutti e tre erano figli ci avresti creduto te lo facevo credere ma non è vero te lo potevo dire prima ma tu li avresti disprezzati agli altri due e io li volevo tutti uguali senza particolarità va va filo meca non è vero va a te ne va no io vero tu mi io vero tu non te ricordi non tu puoi ricordare tu partivi Londra Parigi corsa e femmina una sera una che lì tante che quando te ne andavi mi regalavi sempre una carta da cento lire una sera mi diciste fino a me facciamo a vedere che ci vuoliamo bene e studiare questa luce io che la sera ti volevo letto bene veramente tu no tu avevi fatto a vedere e quando appicciò questa luce una volta mi regalasti la solita carta da cento lire io ci segnalai la data del giorno lo sai che i numeri li so fare tu poi partiste e io ti aspettai con mano santa ma tu non ti ricordi quando fu e io non ti ricette niente ti ricette solo che la vita mia era stata sempre la stessa e difatti quando capita tu non avevi capito niente fu la stessa un'altra volta e chi è? e no che sto non ti dic hanno a essere quale tutte e tre no no non può essere vero no non può essere vero me l'avresti detta allora per tenermi stretta in una mano per tenermi legato l'unica arma sarebbe stata un figlio e figuriamoci tu Filomena Marturano quest'arma l'avresti usata immediatamente me l'avresti fatta accidere come la pensavi tu allora eppure tu non ti sei cambiato non una ma cento volte me l'avresti fatta accidere mi mettete a paura e tu dici solo per me solo per me vivo tuo figlio e chi è? hanno a essere uguale tutte e tre e sei uguale sono figli tuoi e sei uguale non li voglio vedere non lo voglio vedere va a tenere va a filomena va a tenere tu mi ti ricorda ieri quando ti dice non giuracca mi riuscita se un giorno non mi pota ricercare le mosse tu a me e io perciò ti dice state buono tu mi state buono e ricordati se che le catagetite tu dice figli miei gli facci ma ma no come tu dici tu come me l'hai detto per 25 anni come tu dici Filomena Marturano tacci hai capito avvocato venite 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 avvocato vieni vieni pure tu vieni non ti faccio niente vieni ho detto hai vinciuto con te me ne faccio rosalie rosalie vieni rosalie rosalie io me ne faccio rosalie domani mi manda a prendere la roba mia state state vi saluto a tutti quanti eppure a voi avvocato scusate hai capito tu mi io ti dico non c'è gente non dici niente che le catagetite a nessuno tenetela per te hai capito e ora mi scorda voi la capa ci stava segnata sopra un conticello un conticello che a me serve chiede un metro i figli non si pagano statevi bene buona giornata a tutti quanti e scusate